Siamo all'interno del ristorante N1 di Maioli, il ristorante che dà proprio una spiaggia. Ma mostro fino ad oggi per i suoi piatti di mare e per una grandissima pizza, ma adesso anche per il punto di affistamento privilegiato del mare intervento. E' come essere sopra le onde. Bellissimo. Un po' d'acqua non ci devo prendere perché ovviamente... Non sapevano dove siamo? E le onde fanno un po' di qua. Non mi sento. 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 zones. Ci saranno 4 o anche 5 metri alte, eh. Sì 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 sì. Non è trasi senza motivo Sì, non è molto alte però Sì, non è vero L'attiva l'onda trema tutto lo stampimento palmeare Veramente è una situazione di paura Guardate la torre normanna Arrivano colpi di mare che la coprono completamente Impressionante Impressionante Questo è veramente un video esclusivo E un grazie a Michele Che ha reso possibile Come on, guardate che va bene Grazie a tutti